Ok amici di Wismag Italia, siamo qua con Luca Perdersoli, il vincitore di questo primo rally di Milano. Com'è andata questa avventura? Ma per noi è stata un'avventura molto interessante, abbiamo accolto con piacere l'invito degli organizzatori e segnare il nostro nome sulla prima edizione del Milano Rally Show è sicuramente molto importante e a noi fa molto piacere. Quindi cosa devo dirti? Tanta gente, una location fantastica e a questo punto ci troviamo alla seconda edizione del Milano Rally Show. Qual è stata la parte più pesante e più dura da affrontare in questo rally? Ma forse le pause, perché tra una prova e l'altra c'erano tante pause, perché ovviamente in questo tipo di manifestazione la logistica non è facile e quindi ritrovare la concentrazione quando si risale in macchina non è mai facile, però insomma siamo un po' abituati quindi questo l'abbiamo superato, ne valeva la pena perché veramente è una manifestazione unica. Sicuramente non vi aspettavate, penso nessuno, una temperatura così tropicale, soprattutto dentro agli abitacoli che so che avete raggiunto delle temperature da forno a microonde. Sì, nell'abitacolo avevamo oltre 60 gradi, quindi sì, eravamo pronti a buttare la pasta, diciamo. Però cosa ti devo dire? Bene così, due giornate di sole, due giornate molto belle, quindi va bene così. Sì, sì, sicuramente se ci fosse stata l'acqua forse non sarebbe stato così bello. Hai avuto qualche problemino però durante qualche gara, ho visto che insomma qualche inghippo c'è stato. Ma tu dici durante la stagione, sì, quest'anno non è stata per noi una stagione molto fortunata. Eravamo al comando della prima prova dell'IRC all'Irenas e abbiamo rotto un supporto motore a una prova dalla fine. Eravamo al comando del Rally 1000 Miglia e dopo sei prove abbiamo rotto il cambio. Insomma, è stata una stagione in salita, quindi speriamo che questa vittoria al Milano Rally Show riappiani il finale di stagione e torniamo di nuovo sul gradino più alto. Vi ridia una carica per vincere ancora anche nel campionato. Assolutamente sì. Ciao a tutti. Ciao, grazie, è stato un piacere.